E bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio su Minecraft dopo tantissimo tempo. Oggi sono in Epixel, in Murder Mystery e il minigame che faremo oggi si chiama Assassins. Io l'ho visto da Deborah e ovviamente vi lascerò il link in descrizione del suo video. Comunque, prima di iniziare la partita voglio dirvi un po' cosa dobbiamo fare. Comunque ragazzi, noi saremo dei cacciatori di taglie, quindi non appena inizia la partita il gioco ci farà vedere una foto dove in questa foto ci sarà la faccia della persona che dobbiamo uccidere. Quindi dobbiamo trovarla e ammazzarla, ma allo stesso tempo dobbiamo stare molto molto attenti perché come noi sappiamo chi dobbiamo uccidere, lo stesso gli altri. Quindi è possibile che qualcuno ha la foto della mia faccia e quindi cercherà di trovarmi per ammazzarmi, quindi devo stare molto molto attento. Comunque dai, direi subito di iniziare. Ok, Assassins, quindi 1, 2, 3. Vediamo un po' ragazzi perché questa è la mia prima partita in assoluto in questa modalità. Ovviamente l'ho vista anche da Ermac Zayn, non solo da Deborah e mi andava di provarla, quindi vediamo un po'. Ok, 5, 4, 3, 2, 1, via. Ok, adesso... Ok, questa è la mappa ragazzi e adesso il gioco ci farà vedere la faccia di chi dobbiamo ammazzare e quindi dai cerchiamo un attimo di compiere questo obiettivo. Ok ragazzi, come vedete dobbiamo ammazzare questo. Name, Nick, ok. E dobbiamo ucciderlo, quindi come vedete ha la maglia arancione con delle righe grigie. Quindi vediamo un attimo dove potrebbe stare questo ragazzi. E come vi ho detto, c'è gente che comunque sta cercando me, ok. Perché sicuramente a qualcuno gli sarà uscita la mia foto e quindi sta cercando di provarmi. Ok. Ok, in questo caso io... È meglio se mi metto qui ragazzi, così vedo un attimo se questo passa. E se passa ovviamente lo ammazzo, ok. Io ovviamente non mi ricordo niente di Minecraft ragazzi. Dai cerchiamo un attimo di capire questo dove sta. Ah eccolo ragazzi, eccolo lì. Non mi ammazzate, vi prego, vi prego, non mi ammazzate. Proprio ora! No! Lo avevo visto! Lo avevo visto ragazzi. Cavolo! Oh mio Dio, lo avevo visto. Vabbè dai, facciamo una seconda partita. Cerchiamo di stare molto più attenti questa volta perché... Avete visto ragazzi? Io dovevo ammazzare quello, invece quell'altro doveva ammazzare me. Quindi un casino. Ok dai, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, vediamo questa volta che dobbiamo ammazzare. Questa come sempre è la minimappa, noi siamo qui. Ok. 5, 4, 3, 2, 1. Vediamo. Ok, questo qui con la felpa rossa e le cuffie. Ok. Ok ragazzi, vediamo un attimo dove potrebbe stare questo. Io... Eccolo ragazzi! Lo avete visto? È lì! È lì! È lì ragazzi! Prendiamolo! 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 È lui! Sì! Vai! Ucciso ragazzi! Vediamo questa volta. Ok, questa qui con i capelli blu. Perfetto. È questa ragazzi, è questa. Sì! Vai così! Vediamo questa volta. Ok, questo qui con la felpa blu e le righe bianche. Dove potrebbe stare ragazzi? Dove potrebbe stare? Dai vi prego non mi ammazzate, per favore. Ok. Dove potrebbe stare? Qualcuno mi sta inseguendo? Ok, sempre questo. Perfetto. Dai, dove sei maledetto con la maglia blu? Dove sei? Ok, fatti vedere, fatti vedere. È quello dietro ragazzi, è quello dietro. Eh, vabbè. Come avete visto c'era qualcuno che mi stava cercando. Comunque, le mie due kill ragazzi me le sono fatte, quindi sono contento ecco, sono contento. Dai, vi proviamo di nuovo fin quando, diciamo, non riusciamo a fare almeno 4-5 kill. Ok, vediamo un attimo questa volta. Poi le mappe io non le conosco perché qua ragazzi è consigliato un attimo stare fermi e osservare, ok? Piuttosto che andare in giro per la mappa come gli scemi, ecco. Ok, vediamo un attimo. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, questo tipo con la felpa rossa e le cuffie rosse, quindi come prima. Ma sicuramente c'è qualcuno che mi sta cercando a me, quindi ragazzi, io ho paura, ho l'ansia. Ok, eccolo qui. No, non è questo, non è questo, però ragazzi qui c'è gente. Quindi, diciamo, stare dove c'è la folla è un casino perché il mio assassino potrebbe vedermi, ok? Ok, questo è sempre vivo. No, oddio ragazzi! Quindi quando batte il cuore vuol dire che quello lì mi deve ammazzare a me, ok? Quindi funziona così. Perfetto. Questo qui è ancora vivo, non so dove potrebbe stare. Dove ti sei nascosto, maledetto con la felpa blu? Cioè, rossa, scusate. Dove cavolo ti sei nascosto? Vediamo qui. Oh, il cavallo! Top! Ho shoppato un cavallo. Ragazzi, io non riesco a vederlo a questo, eh. Tanto già so che adesso morirò. Eccolo! L'ho trovato, l'ho trovato, non me ne frega. Questo è morto, eh. Prendi sta spada. L'ho visto, ragazzi, l'ho visto. Eccolo! Sta scappando, sta scappando, ragazzi. Sta scappando. Sta scappando. Questo deve morire, non me ne frega proprio. Questo deve morire. Dai, 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 dai. Ti prego, ti prego. Oh, ho vinto, ragazzi, ho vinto. Sì, incredibile. Incredibile. Non so neanche io come ho fatto a vincere, ma ho vinto. Sì, vai così. Voleva scappare quello, ragazzi. Voleva scappare quello, maledetto. Vai, facciamoci un'altra partita. Oh, guardate dove siamo questa volta. Incredibile. Sabbia rossa. Fantastico. 5, 4. Perché vieni vicino a me? Ah, perché ho la skin da femmina, quindi vuole essere mia amica, ok. Oddio, ragazzi. Allora, vediamo la minimappa. Noi siamo qui. Vediamo chi dobbiamo ammazzare. Io intanto scappo. Ok, sempre quello, sempre quello lì con la felpa rossa e le cuffie rosse, va bene. No problem, no problem. Allora, tu con la felpa rossa e le cuffie rosse, dove cavolo puoi stare? Eccolo lì, ragazzi, eccolo lì, eccolo lì. Allora, vediamo un attimo se posso intercettarlo. Perché dovrebbe stare qui, questo maledetto. Dai. Sì, preso. Eh no, eh no, non lo accetto questo. Mi sono rallentato, ragazzi, ok. Allora, devo uccidere questa qui con i capelli azzurri. Ok, perfetto. Ve la faccio vedere bene. No, è cambiato. Quindi questo, ok, Josh. Dove sei, Josh? Fatti vedere un po'. Josh, fatti vedere. Vediamo se è cambiato. Ma perché cambia sempre? Perché, diciamo, forse lo ammazzano, ok? Vedete, cambia in continuazione. Vediamo un attimo se possiamo trovarlo, ragazzi. Vediamo un po'. È quello? No, è questo qui. Eccolo. È quello. Sì, sì, sì. Abbiamo vinto di nuovo, ragazzi. Abbiamo vinto di nuovo, ok? Vi ho distrutto, maledetti. Vi ho distrutto. Mamma mia, ragazzi. GG. Ok, dai, facciamo un'altra partita. Vediamo questa volta. E vi ricordo che, diciamo, queste sono le mie prime partite. Non è che ho giocato prima, ragazzi. Come sapete, io ultimamente sono concentrato con GTA, quindi... Minecraft l'ho messo un po' da parte. Però... Voglio ritornarci. Ok. Vediamo questa volta minimappa. Io cerco sempre di stare molto lontano. Mi devo far vedere il più poco possibile. Ok. Eccolo. Sì, sì. Ammazzato, ragazzi, subito. Ovviamente ho colpito anche quello innocente e mi ha dato tipo... Eh... Come dire... La lentezza. Oh! Lo so. No, ragazzi. Mio Dio. Non doveva finire così. Non doveva finire così. Ho sbagliato il premere tasto perché ho sbagliato. Normalmente in GTA premo Shift per correre, invece qua è Control. Comunque, dai, facciamo un'ultima partita. Vediamo un po' come va. Dai. Non voglio fare lo spettatore. Vai, Return to Lobby. Oh, comunque, ragazzi, abbiamo vinto due volte. E sono comunque contento. Dai, due volte. Vai. Vediamo un po' come va. Fantastico. Questo minigame è fatto veramente, veramente bene, ragazzi. È bellissimo. Ma mi esce sempre il tipo con la maglia rossa, la felpa rossa. Che ne dite voi? Vediamo chi sono. Ok, sono questa. Io mi nascondo sempre il più possibile. Ok. Dobbiamo ammazzare questo. Sempre quello lì, con la felpa arancione. C'hiamo sempre questi. Quindi, ho capito che appena sento il cuore battere, un po' come su Dead by the Light, capisco che il killer è qui. Quindi, devo stare attento, ragazzi. Comunque, vediamo se cambia. Ok, sì, è sempre questo. È vicino, ragazzi. Il killer è vicino. Avete sentito un po' il cuore? Ah, ho sbagliato, ragazzi. Ho sbagliato. Vabbè, nascondiamoci tanto. Ok, adesso ho questo tipo con la maglia rossa. Dove potrebbe stare? Dai, tipo con la maglia rossa. Eccolo! Eccolo! È lui, ragazzi. È lui. Sì, l'ho preso. L'ho preso. Eh, però mi stava rincorrendo quella. Perché lo so che quella dovrebbe essere il mio assassino. Ok, vediamo ora. Eccola. Sì, vai così, ragazzi. Seconda kill. Ok, questo qui con i capelli neri e maglia bianca. Eh, ok, ok, ok. Quella lì mi vuole ammazzare. E ce la farà. Oddio, scappa! Oh, no! Ragazzi, lo avevo colpito! Vediamo, sono arrivato. Eh, beh, non lo so. Però comunque l'avevo colpito. Vabbè, GG. Niente, ragazzi. Dai, direi che con questo è tutto. Ditemi voi se dobbiamo continuare questo minigame. Perché secondo me è divertentissimo. Ovviamente vi lascio il link in descrizione del video di Deborah. Perché anche lei ha fatto lo stesso minigame. E passate anche da lei, dai. Ciao, ragazzi! Ciao!